Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog Oggi siamo qua, come vedete, immersi nelle montagne Come potete vedere qua c'è pure la neve Perché appunto nelle notti scorse è piovuto Adesso faccio una panoramica anche contro sole Però devo farvi vedere tutto Ecco il cameraman, saluta Questo video è registrato con GoPro Quindi in questi giorni farò anche delle discese Che ho provato i nuovi attacchi al petto e anche al casco Quindi preparatevi per un po' di video in discesa Nulla, questo breve vlog per raccontarvi un po' dove sono La località, siamo in Trentino Nelle montagne tra Pinzolo e Madonna di Campiglio E come vedete, cioè, siamo in cima al mondo Il nostro breve vlog è solo informativo E anche per spiegare che tra poco arriveranno nuovi video Quindi aspettatevi a breve questi nuovi video E siccome siamo a Refugio Chalet Fiat E come potete vedere c'è una roba fantastica in mezzo alle montagne Boom Non una, non due, ma ben tre 500X con i cingoli Un'ultima cosa Vorrei che mi scriveste qua sotto nei commenti Di questo video Se volete che apra un account di Instagram Dove posso postare le foto della bici e dei vari percorsi che faccio O anche qualche breve video Che lo faccio molto volentieri E anche nuove tipologie di video Per esempio, quale video lezioni posso fare E che video posso fare Niente, per oggi è tutto E noi ci vediamo nel prossimo video Che sarà una bella discesa Ciao E noi ci vediamo nel prossimo video